Un cordiale saluto da Raffaele Laricchia, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Ancora un sabato variabile sulle regioni del sud e del medio basso triatico per effetto di una circolazione depressionaria instauratasi già da parecchi giorni sul Mediterraneo, in particolar modo sul medio basso tirreno. Attorno a questo vortice si muovono nubi, acquazioni e anche degli isolati temporali che andranno a coinvolgere anche questo sabato il meridione. Andrà meglio al nord, cielo sereno, poco nuvoloso. In Abruzzo si prospetta un sabato ancora perturbato con tante nubi, anche occasione per delle piogge che coinvolgeranno in modo più marcato il pescarese, il vastese e anche l'altosangro con impossibilità di neve in montagna al di sopra dei 1200 metri di altitudine. Un po' più asciutto sul Terramano, l'Aquilano, le aree più interne, anche la Marsica. Qui avremo cieli nuvolosi o anche poco nuvolosi, quindi possibilità di sprazzi di sereno. Il tempo poi andrà man mano migliorando, si prospetta un fine settimana decisamente più stabile su tutta la regione. Con questo concluso ci rivediamo nel prossimo appuntamento. Grazie a tutti.